La giovane docente universitaria Deborah Gervasi è la nuova presidente del Rotaract Club di Caltanissetta per l'anno sociale 2022-2023, in carico che la trentenne, che fa parte del Club Service dal 2019, assumerà una volta terminato il mandato di Stefania Fontanazza, cioè a partire dal 1 luglio di quest'anno, sino al 30 giugno del 2023. Deborah Gervasi, dopo aver conseguito la laurea specialistica in Economia e Direzione Aziendale, ha svolto un dottorato di ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche presso un istituto spagnolo a Barcellona e dopo la sua esperienza nel mondo della ricerca, partecipando al progetto europeo Italia-Malta, Interregional Key Networking for Open Innovation and Empowerment, adesso insegna all'interno dell'Università Ennese strategia aziendale e gestione dei processi aziendali. Cercheremo di improntare il nuovo anno sul tema della reciprocità, forse anche per deformazione professionale dei miei temi di ricerca, sono convinta che sia possibile invertire i circoli viziosi della reciprocità negativa attraverso quelli virtuosi della reciprocità positiva. Quindi sostanzialmente cercheremo di spostare l'attenzione dal concetto di mancanza, dal concetto di scarsezza, spesso magari ci focalizziamo su ciò che manca al nostro territorio, però così facendo ci allontaniamo dal concetto di sovrabbondanza e tutte le emozioni e le azioni positive che possono essere intraprese grazie a questo concetto. Noi per fortuna abbiamo un club sovrabbondante di amicizia, di passioni, di professionalità e magari possiamo anche permetterci nel nostro piccolo e lusso di agire da first mover, quindi cercare di essere noi i primi a mettere in atto delle azioni che possano per l'appunto portare a questa positività. E sostanzialmente, come dico sempre, però non ci possiamo limitare nel mettere in atto la regola aurea del fare agli altri ciò che noi vorremmo ricevere, perché magari gli altri non hanno i nostri stessi gusti. E allora dovremmo cercare di attuare la cosiddetta regola di platino, quindi cercare di fare agli altri ciò che gli altri vorrebbero ricevere. Quindi in questo modo vorrei che il nostro anno fosse improntato in delle attività che possano donare effettivamente agli altri ciò che più richiedono, in modo da creare questo senso di mutuo indebitamento, perché questa sensazione di ricevere sempre più di quanto si stia donando consente di creare queste relazioni arricchenti per l'appunto e noi speriamo quindi di poter fare il primo passo verso la creazione di questa reciprocità positiva e generalizzata che possa avere poi dei riverberi positivi nel nostro contesto sociale.